Siamo arrivati a 14.000 iscritti, è un numero spettacolare, più di questo io che cosa posso volere? Sono molto felice, ringrazio tutti quelli che sono iscritti al canale e che mi seguono, anche quelli che non sono iscritti mi ringrazio lo stesso perché mi seguono, e la varietà del canale e il suo spaziare a 360 gradi su tantissimi argomenti mi dimostra il fatto che il canale è molto utile, le mail che mi arrivano mi fanno capire che questa è la strada giusta da seguire e la cosa più bella è che tantissime persone mi scrivono, mi hai fatto venire voglia di suonare, questa è una cosa meravigliosa. Allora, io insieme al mio staff abbiamo pensato, che regalo possiamo fare al nostro pubblico per i 14.000 iscritti? Che regalo possiamo fare? Ci abbiamo pensato per un bel po' e da un po' che ci stiamo pensando e la cosa che abbiamo pensato di fare, secondo me, è una figata perché abbiamo deciso di aprire un canale su Telegram dove tutti possono unirsi e nel quale ci saranno contenuti esclusivi. Cosa significa? Che saranno contenuti che non si trovano né su YouTube, né su Instagram e né su Facebook. Saranno contenuti che ci sono soltanto lì e che secondo me saranno tanto tanto utili. Stiamo parlando di playlist settimanali da ascoltare su vari autori, spartiti ed esercizi scritti da me per tutti i livelli, per clarinetto, per sax, per chi all'inizio, per chi è già un pochino più avanti, per chi è già più bravo. Ogni settimana ci sarà sempre qualcosa di nuovo. Ci saranno le anteprime delle uscite su YouTube. Questa è un gioiellino proprio. Quindi qualche giorno prima dell'uscita su YouTube ci saranno dei video che potranno essere visti in anteprima. E poi, una cosa bellissima, ci saranno degli sconti, delle recensioni di prodotti, sia per lo studio, quindi libri, accessori, eccetera, ma anche di strumentazione, quindi strumenti, imboccature, ance, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo sarà veramente un canale che permetterà di avere ulteriori vantaggi rispetto al canale di YouTube. Sul canale di YouTube ci sono più di 500 video. Cioè, 500 video sono veramente tantissimi. Tutti gratuiti, per tutti i livelli, per tutte le età. Cioè, c'è di tutto e di più. E questo canale di Telegram io sono sicura che sarà veramente una cosa bellissima, bellissima per tutti quanti. Quindi, nella descrizione di questo video troverai il link del canale di Telegram. Basta cliccarci su e unirti alla scialuppa. Grazie ancora a tutti. Sono super felice e si va avanti con delle novità pazzesche quest'anno. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.